La memoria non è ciò che ricordiamo ma ciò che ci ricorda. Parole profonde per celebrare nel decennale della morte l'Elio Pallante, storico editore di Tele Molise, la nostra emittente, amministratore regionale, sindaco di Frosolone e presidente della locale comunità montana. Ancora compianto e ricordato nel mondo della politica e del giornalismo molisano per lo spessore della sua figura e del suo operato nel nostro contesto regionale. Un pioniere della televisione privata è un politico galantuomo come lo ricordano in tanti soprattutto nel suo paese natale Frosolone che sotto la sua guida vide la nascita del poliambulatorio, della piscina e del bocciodromo. L'Elio Pallante sarà ricordato con una celebrazione religiosa ufficiata dal vescovo Claudio Palumbo in programma a dieci anni esatti dalla sua morte oggi alle ore 17 e 30 nella chiesa di Santa Maria proprio a Frosolone, il paese che guidò più volte come sindaco e che lo ha pianto come un figlio amato da tutti.